Benvenuti da GM, il mondo moda, store and outlet. GM è sinonimo di stile e moda, sia per il tempo libero che per le grandi occasioni. Da GM trovi la passione per il classico e l'attenzione verso i brands in tendenza. Seguici sui nostri social per non perderti novità e aggiornamenti. GM è molto di più. Sposi e cerimonia, consulenza immagine, servizio sartoria, customer care, gift card e GM card con credito, spazio outlet. Acquista anche online. Il customer care risponde entro breve tempo alle tue richieste. Disponiamo di un ampio parcheggio privato. Ti aspettiamo nel mondo moda GM. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.